binance poco tempo fa ha lanciato la test net e l'annuncio di op bnb una soluzione layer 2 per la baina smart chain per aiutare la scalabilità della baina smart chain è realizzata con pistac e optimism fondamentalmente op bnb consente agli utenti di depositare prelevare fondi utilizzare interagire con smart contract con troppo da elevato e a bassissime costi di transazione il tempo dell'approvazione di un blocco si agire intorno al secondo con una tariffa dello 0,005 centesimi di dollaro questa esigenza è nata dalla forte scalabilità che purtroppo non si può avere sulla cene di livello 1 in questione infatti web 3 richiede un'altissima velocità basti pensare alice e centralizzate le piattaforme i trading decentralizzate che stanno nascendo social media game finance tutti quegli applicativi che hanno bisogno di estrema velocità e di supportare dei carichi di utenti elevati ma ovviamente mantenendo sicurezza e comunque costi bassissimi alla portata di tutti op è stato progettato per avere e raggiungere fino a 100 milioni di gas al secondo e sfruttando il framework di op stack di raggiungere oltre le 4000 tx al secondo con l'elaborazione di un secondo per un blocco presumibilmente potrebbe essere anche più veloce di optimist su ethereum per quanto riguarda la sicurezza o più in bnb impiega sequencer prover e validator per andare a verificare praticamente a una velocità istantanea tutte le transazioni da bsc a op bnb potrà interagire con altri layer 2 supporterà le vm linguaggio di programmazione solidity optimist ovviamente e tutti gli altri stack e di integrazione va ad elaborare tutte le transazioni off chain per poi pubblicare istantaneamente on chain fornendo in questo caso una elevata scalabilità senza caricare la rete e pubblicando poi la sequenza di dati come ho detto on chain è suddivisa in tre livelli principale l'erre pc per interagire con il roll up un livello di interfaccia operatore per andare a proporre le transazioni la verifica off chain è un livello di esecuzione per andare a fornire le transazioni on cene compatibilmente anche con le vm by nasi lancia un optimist layer 2 compatibile e vm proveremo ad essere leggibile con un eventuale ea drop non è nulla di confermato ma proprio come aveva fatto all'epoca con lancio di bnb che aveva poi air droppato ai fortunati non si sa mai che lo faccia anche in questo momento per prima cosa come sempre vi consiglio di seguire i vari sociali inerenti twitter telegram ed eventualmente anche disco dopodiché bisogna andare a mettere all'interno del nostro wallet non custodia come ad esempio meta mask by nas marcen test net potete trovare questo collegamento su chain list punto org clicchiamo su connetti wallet inseriamo la passo del nostro meta ma diamo lo sblocco accettiamo il collegamento dopodiché andiamo a richiedere i token test andiamo a connettere il nostro wallet verrà connesso in automatico se avremo impostato bsc test net come rete principale clicchiamo su continua e andiamo a richiedere i test possiamo andare aumentare con di nostro bonus condividendo il tweet oppure cliccando su su skip e possiamo andare ricevere i nostri 0,05 bnb di fauset e ti insomma impressione possiamo rifare la richiesta dei test dei token test ogni 12 ore ma in pochi secondi possiamo andare a controllare abbiamo ricevuto 0,05 bnb ora ci spostiamo su p bnb test net bridge ma vi lascio da tutti i link e descrizione anche se non ve li mostro all'interno del video non vi preoccupate andiamo a connettere anche in questo caso il nostro metamask vediamo tutte le conferme del caso andiamo a effettuare un deposito ricordiamoci sempre di tenerci qualche centesimo per il pagamento anche se siamo in fase test bisogna comunque pagarle andiamo a cliccare su conferma ed effettuiamo il deposito ora case del posito è stato effettuato andiamo a fare il prelievo facciamo lo switch su o p bnb test net vedete che in automatico ce lo va ad aggiungere facciamo lo switch del network andiamo a prelevare 0.04 diamo la conferma e attendiamo il prelievo si vi ho detto prima di stare attento alle fie poi io faccio il contrario ovviamente clicco su prelievo ri e accetto la tx e vado a prelevare i fondi sulla cene di o p bnb possiamo anche andare a controllare i nostri prelievi i nostri depositi e comunque bisogna attendere che venga approvato ora andiamo su z che bridge puntocom a connettere il nostro wallet ea richiedere un NFT in questo caso si opera sulla mainnet di bsc quindi bisogna avere comunque una porzione di bnb per riuscire a fare il claim del dell'nft andiamo a fare la richiesta ea fare il claim del nostro nft effetto vedete in questo caso le fi le pago veramente con i bnb co all'interno della mainnet bnb chain all'interno di metamask perfetto andiamo a confermare l'importazione next in questo caso come un netto di ricezione andiamo a selezionare o p bnb clicchiamo su next approviamo la transazione paghiamo i 4 centesimi e attendiamo il trasferimento step 2 z che bridge sta processando tutte le nostre transazioni dobbiamo attendere 4 di 4 completati pochi secondi dovremmo riuscire ad effettuare tutto il procedimento ottimo andiamo a fare il claim ok abbiamo completato di che i bridge nft da bnb chain mainnet l'abbiamo trasferita su op bnb dopodiché ci spostituiamo su galt e punto com andiamo su op bnb effettimente andiamo a dare il follow e poi verificare queste tasche per avere dei punteggi in più come ben sapete su galt e purtroppo c'è da da cristo nare perché non è semplice e immediato riuscire ad avere l'accettazione di tutte le tasche a volte ci vogliono veramente dei giorni per riuscire a effettuare le dovute verifiche